Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora io sono qui a Aix-en-Provence e sto andando a vedere la fiera del Salon Livre Côté Sud che sarebbe lo stesso di quello del mese scorso ma la versione ufficiale e quindi molto più grande. Quindi ci aggiungiamo quando sono lì dentro. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.